sul chiuso, allora nei rapporti interpersonali e anche nelle situazioni generali io vi raccomando di non essere invece così chiusi perché scorpione, cancro e in seconda battuta anche se sempre in maniera positiva i pesci sono i segni... Grandissimo Paolo ci indovini sempre, sei stupendo, viva le 5 stelle, viva Beppe Grillo, viva le stelle che metti anche tu nell'oroscopo, sei grandissimo perché tutti e due usate le stelle, ciao Paolo, ciao da Parovista, ciao Paolo, Paolo Fox, grande. Direi che è meglio non chiedere perché lo scorpione ha sempre bisogno, magari non vi nasconde niente, però ha sempre bisogno di avere un qualcosa di suo, cioè non così in un suo angolino dove magari uno scrignetto dove dentro nasconde chi lo sa che, a volte anche...